Questi due apparati, un Alan A68 e un Alan A48 sono di Mikan, di Trieste, ho scritto un foglio qui quello che dobbiamo fare e dice sull'Alan A48 c'è l'S-MITR che non funziona, da cambiare, forse non ce l'ho da cambiare, vediamo se posso giustare questo, e poi fai un controllo se tutto è a posto, per quanto riguarda invece l'Alan A68 c'è il potenziometro del volume che non va, poi un controllo generale, scheda 120 canali, te ne posso fare 34 più 34 più 34 come faccio con gli altri, non ho il commutatore a 40 canali, scheda Eco 8 più aumento potenza, ho messo dentro il pacco anche una scheda Eco, vedi se la puoi usare, io di solito ho le mie schede Mikan, però visto che l'ho mandata cercherò di mettere questa se funziona, quindi adesso incominciamo con il 48, che è quello più sbrigativo secondo quanto c'è scritto l'A, vediamo un po', e poi ci dedichiamo all'altro, allora, questa è la potenza attuale, come modulazione è scarsa, ho chiesto solo il controllo e lo strumentino, adesso comunque cercherò di aumentare un po' la potenza lasciando il suo finale, e di migliorare la modulazione, e poi vedere di fare qualcosa per l'assemite, eccolo qua, sembra che adesso era serrato questa vite del bilanciere, e sembra che adesso lo proviamo meglio, si funziona, funziona, poi magari regoliamo il fondo scala, allora Mikan il primo è apposto, momento funziona, ho sistemato un po' la portante e anche la modulazione, ho cambiato anche il connettore del microfono, era difettoso quello, era pure rotto perché hanno forzato la vite e si è sgranato internamente, quindi l'ho cambiato, e adesso passiamo a 68, ecco qua, non vorrei sbagliarmi ma, hanno messo già, già le mani, vedi tutti i pomelli sballati, questo, il fine corsa si ferma qui, questo si ferma qui, comunque vediamo un po' la potenza, la modulazione è zero, adesso accendo le strade per vedere se, se esce la modulazione, no non esce, qui gli hanno fatto la modifica dei canali, io ero spostato prima, adesso così è sul 22, però la modulazione non esce, prova, prova, sto ascoltando con questo qua, prova, 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 ora ora, ora, non c'è modulazione, adesso lo controllo meglio, risolvo questo problema, poi passiamo alle modifiche, se riesce, questo, è un altro di quelli partorito dalla NASA, ecco qua, guardate qua, abbiamo un relè, qui abbiamo questi due condensatori, dalla massa all'interruttore, non so cosa servono, non so cosa servono questo relè, perché non vedo, non vedo modifiche all'interno, c'è solo questa schedina, qui dei canali, per avere quelle positive o negative, no, negative, perché c'è il 14960, come quarzo, adesso tolgo tutto, vediamo un po' se riesco a farlo funzionare, magari la modulazione, perché non c'è modulazione, non ho capito a cosa serviva quel relè, e a cosa servivano i due condensatori, li ho tolto, adesso ho unito il filo, che porta lì al potenziometro del mickey gain, e la modulazione c'è, oolà, oolà, così possiamo incominciare a fare altri lavori, mi accingo a montare la scheda eco, senza relè di commutazione, lo dico per rispondere a Facchinelli, che l'altro giorno, in un commento mi ha accusato, che dice che io copio dagli altri, questo non l'ho copiato da nessuno, il fatto che non metto il relè di commutazione, caro Facchinelli. E anche la seconda radio di mickey gain è pronta, ho messo la scheda eco, quella sua, l'ha mandato a lui, sistemata così, qui ho messo la scheda dei 120 camali, aumentato la potenza con il finale maggiorato, i componenti necessari, adesso lo chiudo e lo proviamo. Allora, canale alto, 34, normali, canale basso, sempre 34, per quanto riguarda il preascolto si inserisce da qui, per quanto riguarda l'eco, siccome che il potenziometro chiude bene, non ho messo un interruttore per l'esclusione, perché così chiude e quindi non si sente l'eco. Adesso proviamo la potenza prima, e abbiamo, sono 10 watt e qualcosa, ooola, ooola, tocca i venti in modulazione, quindi mettiamo un po' di eco, prova, e che prova se non metto il preascolto, ormai sto sballando piano piano. Prova, alla tensione e alla frequenza, uno, due, tre, passo. Vediamo. Una, due, tre, prova. Attenzione, circolo sequenza, uno, due, tre, passo. Andiamo ancora. Trova. Allora, se io sto parlando e stacco, quando riprendo di nuovo, la ripetizione precedente non ci sente, perché viene staccato completamente, ecco. E poi riprende una nuova sessione. Trova. Ecco qua. Trova. Stacco. Non c'è niente. Allora, attenzione. Passo. Andiamo ancora. Al massimo. Uno, due, tre, prova. Prova. Questo è tutto. Anche per queste due radio vi auguro una buona giornata. Grazie.